Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro video riguardante quelle che sono le novità in vista di FIFA 22 che stanno iniziando a rimbalzare in rete con maggiore o minore insistenza in vista poi di quella che sarà la conferenza del 22 luglio, data in cui scopriremo con ufficialità tutte le nuove features del gioco di casa Electronic Arts. Ci tenevo per oggi a portarvi questo video visto che le due cose delle quali vi andrò a parlare secondo me meritano tanta attenzione, in particolare una delle due. Diciamo che una farà un po' più contenti i tifosi, l'altra magari un po' di più gli hardcore gamer, no? Quelli che insomma tryhardano o comunque vogliono godersi il gioco. Quindi senza perdere ulteriore tempo passerei immediatamente su quella che è la schermata dove troviamo questo articolo FIFA 22 nuovo motore grafico Frostbite 4 su PS5 ed Xbox serie X slash S punto interrogativo. Difatti nelle ultime ore si è parlato della possibilità di vedere questo nuovo motore grafico sul titolo FIFA 22 per quanto riguarda la versione next gen, quindi non su PS4 e Xbox One ma solo ed esclusivamente su quelle che saranno le console appunto appena uscite. Come possiamo leggere all'interno dell'articolo, Electronic Arts e Dice hanno presentato oggi Battlefield 2042, nuovo capitolo del celebre sparatutto in prima persona, rilasciando anche il primo reveal trailer. Tante le novità introdotte in Battlefield 2042, inclisa la possibilità solo su PC e sulle console di nuova generazione di avere addirittura 128 giocatori attivi contemporaneamente. Per lo sviluppo su queste nuove piattaforme è stata utilizzata una versione aggiornata del motore di gioco Frostbite, ideato proprio da Dice, che per semplicità viene definita dagli addetti ai lavori come Frostbite 4, per distinguere dalla versione precedente utilizzata fino ad oggi. Dice infatti non assegna più numerazione alle varie evoluzioni dell'engine Frostbite che si sono susseguite di anno in anno. Banca una conferma ufficiale, ma stando alle indiscrezioni che circolano in rete, anche FIFA 22, solo sulle console next-gen, potrebbe far uso delle nuove funzionalità messe a disposizione dal Frostbite 4, cosa che, oltre ad un miglioramento estetico dell'aspetto di gioco, porterebbe anche ad una profonda revisione di elementi, come la fisica, se i contrasti del pallone, l'intelligenza artificiale, e più in generale di tanti elementi legati al gameplay, sfruttando la maggiore potenza messa a disposizione da PlayStation 5 ed Xbox Serie X e Serie S. Le versioni PC4, invece, ed Xbox One saranno ancora legate al vecchio motore grafico e potrebbero chiaramente ricevere significative limitazioni. Non resta a questo punto che attendere la presentazione ufficiale di FIFA 22, che, salvo sorpresa, dovrebbe arrivare il 22 luglio prossimo nel corso dell'evento EA Play Live. Questo è un qualcosa, al mio modo di vedere, che è molto, molto, molto significativo ed importante, perché negli anni ci si è lamentati veramente tanto, raga, vi posso garantire del motore grafico Frostbite, perché, come dice questo articolo, di fatti, è un motore grafico che è stato ideato dalla casa Dice, che si occupa della produzione di Battlefield, quindi è un motore grafico che si sposa più per quelli che sono i giochi sparatutto in prima persona. Di fatti, quante volte ci sarà capitato di lamentarci, ad esempio, che in seguito ad un contrasto la palla rimane beccata su un giocatore senza la possibilità di poter switchare il giocatore più vicino? Questo, in realtà, non è altro proprio che un errore figlio del motore grafico, perché, visto che i giochi sparatutto sono dei sistemi in cui si punta e spara, quando tu vai a puntare agganci un determinato elemento, quindi c'è proprio questo sistema di ancoraggio che poi, trasposto su un gioco di calcio, ha creato questo errore, per farvi un esempio. Stessa cosa per quanto riguarda la fisica del pallone, un altro elemento che, insomma, ha generato negli anni perplessità, perché ci sono tiri che sbattono sul palo e poi rimbalzano estremamente al centro dell'area di rigore sui piedi dell'attaccante, invece di volare come giusto che sia, magari fuori o, insomma, prendere le giuste angolazioni, questo sempre perché il motore grafico Frostbite in realtà è designato per un altro tipo di titoli. Quindi, già parlare di una miglioria all'interno di quello che è il motore grafico precedente, seppur mantenendo Frostbite, ma utilizzando una sua versione aggiornata, mi sembra un passo in avanti, anche se in realtà si parlava e si è parlato in passato della possibilità di poter vedere l'applicazione su FIFA di un motore grafico totalmente diverso, che sarebbe poi valso, praticamente, a dire anno zero sul gioco, visto che tutti quanti avremmo dovuto, praticamente, ricominciare ad apprendere anche le meccaniche di base. Tuttavia, questa questione, però, introduce anche un altro problema, perché, come potete vedere, vi ribadisco, all'interno dell'articolo dice che Per lo sviluppo di queste nuove piattaforme è stata utilizzata questa nuova versione del motore grafico Frostbite, che però verrà utilizzata solo sulle next gen, per cui si verrebbe a creare una spaccatura definitiva tra PS4 ed Xbox One e PS5 ed Xbox Serie X ed S, che in realtà non è un male, perché così come in passato è successo con la PS3 ed Xbox 360, è giusto che la tecnologia vada avanti. Però, dobbiamo anche capire quello che è il momento storico nel quale ci troviamo, perché nel momento in cui è così difficile andarsi a procurare le console di nuova generagione per via della crisi dei microchip, per via della crisi del mercato, eccetera, eccetera, tutti i fattori che non vi sto ovviamente qui a raccontare, perché comunque chi più chi meno ne avrete tutti quanti conoscenza, si rischia di mettere in una posizione di dislivello i vari giocatori, perché ad esempio mettetevi nei panni di qualcuno che lo fa per mestiere, quindi vuole competere, magari non riesce a mettere le mani su una PS5 fino a dicembre, data ultima, per esempio, di poter acquisire il verificato, qualora le cose dovessero rimanere così. Inoltre, quelli che invece avrebbero già le console di nuova generazione potrebbero giocare al gioco nuovo sviluppato e poter già, insomma, capirne le meccaniche, eccetera, eccetera, e ricevere un grossissimo vantaggio. Quindi, si andrebbe, secondo me, ad alzare una barriera sia per quanto riguarda anche il casual gamer, ma anche per quanto riguarda proprio chi effettivamente deve competere su FIFA 22. Quindi, secondo me, qualora queste news, questi rumors dovessero essere confermati, e qualora, appunto, sia così difficile procurarsi una console sul mercato, credo, credo, una mia ipotesi, che l'anno prossimo le console di riferimento saranno ancora Xbox One e PS4, per poi fare il salto definitivo su Next Gen con FIFA 23, quando si spera che Frostbite 4, il nuovo motore grafico, magari avrà vissuto un anno di transizione sulle Next Gen e magari avrà ricevuto le opportune migliorie, perché immaginatevi un motore grafico nuovo su un titolo nuovo patch che non vi immaginate proprio, sono contrariato tutto l'anno, video qui sul canale, e inoltre, magari, potrebbe esserci stata la svolta sul mercato con l'introduzione massiva di nuove console e, appunto, la possibilità di comprarle con maggiore facilità. Quindi questo, secondo me, per quanto riguarda la questione Frostbite 4, un nuovo motore grafico relativo a FIFA 22. Invece, passando ad una questione meramente, così, disquisitoria, c'è questa notizia che la Juventus potrebbe ritornare in maniera ufficiale su FIFA 22. Difatti, Foot Zone Central, che è, insomma, un portale di news, rumors, leak molto autorevole, riporta quelle che sono le parole di Daniele Pelusi, CEO del team UT7, fresco vincitore della E-Serie A con il Benevento Calcio e Dani Pitbull, il quale dice che, durante un'intervista rilasciata in radio Kiss Kiss, il campione della Serie A con il Benevento Calcio, appunto, ha parlato circa il progetto eSports e il contratto firmato dal Napoli con Konami e ha affermato quanto segue. Il Napoli ha fatto questo contratto con Konami per i prossimi anni, quindi, mentre il Napoli rimarrà su PES, la Juve potrebbe ritornare su FIFA. Quindi, in realtà, potrebbe esserci uno switch tra Napoli e Juventus a partire da FIFA 22, anche se il Napoli sappiamo che perderà la licenza su FIFA 23, l'anno prossimo l'avremo ancora. Infatti, reporta Foot Zone, che all'interno del mondo eSport questa notizia era già stata, diciamo, trapelata, visto che la Juve avrebbe richiesto la terminazione del contratto esistenze con Konami, pagando una penale al fine di poter negoziare nuovamente con Electronic Arts e garantire la sua presenza su FIFA 22. E questo, in realtà, è una scelta logica, perché abbiamo visto la Serie A avere un successo devastante su FIFA con l'impossibilità della Juve di partecipare, visto questo contratto esclusivo che era stato firmato con PES qualche anno fa, e il fatto che la Lega Calcio abbia firmato anche un accordo strategico con IEI determinandola come competitive partner. Quindi, ovviamente, la Juve, che cerca di stare sempre sul pezzo, non vuole rimanere tagliata fuori da quella che è la fetta di mercato più ampia, secondo me. Per cui, questa notizia potrebbe avere assolutamente senso e potrebbe esserci questa svolta per cui potremmo dimenticarci il Piemonte Calcio per avere, in realtà, una Juventus che torna con la sua licenza, le sue maglie, il suo scudetto, insomma, le immagini dinamiche dei giocatori su foot, tutte cose che comunque fanno piacere, no? A un utente di questo videogioco, immagino anche il casual player, che non è troppo affezionato a FIFA, e in passato è andato a prendere PES, perché lì c'era la sua squadra del cuore, ovvero la Juventus. Quindi, è un qualcosa questo delle licenze, diritti, eccetera, eccetera, che un po' mi preoccupa, perché potrebbe essere, diciamo, un territorio di battaglia spigoloso nei prossimi titoli e che potrebbe portare una grossa fascia di utenti a spostarsi continuamente, così eccola, a seconda di quello che, appunto, è il titolo che acquisisce la propria squadra del cuore. Io mi auguro di no, mi auguro che se PES voglia, diciamo, fare un po' di concorrenza a FIFA, pensi a migliorare il gameplay, e dia un'alternativa che magari possa portare FIFA a ritenere di avere un competitor serio, e per questo motivo fare uno sforzo ulteriore per rendere il gioco più godibile e più fruibile a 360 gradi. Quindi, raga, per quanto riguarda queste due news, fondamentalmente è tutto. Io vi ringrazio per la visione, fatemi sapere se già ne avete sentito parlare nei commenti, cosa ne pensate. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che ormai questo è un periodo in cui i contenuti scarseggiano, però, in vista dell'anno prossimo, mi raccomando, torneremo con i tutorial, tattica, eccetera, eccetera. Un salutone dal vostro Liberoschi, raga, statemi bene, ciao ciao!